Sono entrati in casa armati di Kalashnikov e pistole prendendo in ostaggio tre persone. Hanno rapinato le vittime sparando colpi in aria per intimidirle, poi sono fuggiti, portando sui dietro una di loro tenuta sotto sequestro per diverse ore, prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Una notte di terrore quella vissuta dai tre componenti di una famiglia di Noci, padre, figlio e la compagna diciottenne di quest'ultimo. Cinque irresponsabili, tutti identificati ed arrestati dai carabinieri in meno di 24 ore di indagini. Si tratta di Nicola e Luigi Annoscia di 29 e 20 anni, Pasquale Lorusso di 32 e di Carmine e Cristofer Manzari di 25 e 28 anni. La caccia ai malviventi è scattata immediatamente, portata avanti dai militari della compagnia di Gioia del Colle, intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dal padrone di casa. Sentendosi il fiato sul collo, i sequestratori hanno abbandonato le auto utilizzate per il rapimento. A bordo di una di queste, gli uomini dell'arma hanno trovato un fucile d'assalto. Fondamentali per le ricerche sono state le dichiarazioni del padre e dello zio del ragazzo che hanno permesso agli investigatori di far luce sull'intera vicenda. Una questione di soldi e di droga. In base alla ricostruzione fatta dai militari, la banda sarebbe entrata in azione nel tentativo di recuperare il credito maturato nei confronti dello zio del giovane sequestrato per una partita di stupefacenti mai pagata del valore di circa 50.000 euro. Da qui l'idea della rapina e del rapimento per lanciare un messaggio chiaro sulle cattive intenzioni della banda. I cinque sono finiti in carcere con le accuse di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e detenzione di armi. L'ostaggio era tenuto prigioniero nell'abitazione di uno di loro. Quando sono arrivati a liberarlo, i carabinieri lo hanno trovato legato all'interno di un ripostiglio.